Signori, konnichiwa! Io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Legend of Kuoka Goddess 2023 è stato archiviato, uno show che ci ha regalato molti punti importanti per il futuro della stardom. Dunque, in questo video andremo a esaminare i fatti salienti dell'intero show. Mettetevi comodi e diamo inizio allo spettacolo! Il primo match che andremo a esaminare è il match tra Maika e Giulia vs Utami, Aya Shishita e Saiya Kamitani. Tralasciando la vittoria di Maika ai danni di Utami, che comunque è una vittoria importantissima, quello a cui io voglio soffermarmi è il post-match. Sì, perché da un lato abbiamo Maika, che dopo la vittoria prende il microfono e annuncia a tutto il mondo che quella che stiamo vedendo è una nuova Maika. Più aggressiva direi, che dunque con questo promo effettua, a mio avviso, un turn hill. Dall'altro lato invece abbiamo Utami e Saiya, che una volta tornate nel backstage non prendono bene la sconfitta, andando a darsi la colpa vicenda per essa. Dunque da una parte abbiamo una nuova Maika, dall'altra abbiamo dei problemi all'interno delle Queen Quest. Dove porterà tutto ciò? Solo il tempo ce lo potrà dire. Intanto io vi invito a farmi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Passiamo ora al primo match titolato dello Shou, dove troviamo Azumi intenta a difendere il suo High Speed Championship contro Maysera. Match ottimo da parte di entrambe, con una Maysera che arriva vicina alla vittoria, ma che alla fine non può che cedere alla finisher di Azumi, che dunque resta campionessa. Al termine del match arriva su ring Saki Kashima, che sfida per l'ennesima volta Azumi ad un match titolato. Azumi accetta, a patto che il match sia un three-way, Saki acconsente dicendo ad Azumi che sa chi contattare per far prendere parte al match. Ce la farà questa volta Saki Kashima a diventare High Speed Champion? Altro match titolato dove troviamo Amisorei e Mirai pronti a difendere i Goddess of Stardom Titles contro le Fukuoka Double Crazy, Azuki e Koguma. Match molto bello, con le Fukuoka Double Crazy vicine alla vittoria in più occasioni, che però alla fine devono arrendersi allo strapotere di Mirai, che ottiene il tre vincente su Koguma, dopo un Jumping Lariat. Nel post-match le campionesse vengono raggiunte da Natsuko Tora e Momo Watanabe, che le sfidano per un match titolato in quel di Flushing Champion, pay-per-view che andrà in onda il 27 maggio. Tempo di Main Event dove troviamo Mina Shirakawa a difendere con successo il suo Wondero Stardom Championship contro Natsupoi. Una Natsupoi che esce dal match a testa alta, siccome durante l'incontro arriva in un paio di occasioni vicinissima alla vittoria, con il Ferial Gift prima e il Ferry Strain poi. Al termine del match, Mina Shirakawa chiama sul ring Tam Nakano e la sfida ad un title vs title match per Flushing Champions il prossimo 27 maggio. Tam accetta la sfida e dice che il regno di Mina è ormai alla fine. Match molto spigoloso quello che andremo a vivere il 27 di maggio tra Tam e Mina, che può elevare la vincente e far sprofondare la perdente. Chi vincerà questo match? Chi lascerà Flushing Champion con entrambe le cinture? Vi invito ancora una volta a farmi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito ancora una volta a lasciare un like, a condividere il video con tutti, a iscrivervi al canale, mi raccomando non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi video futuri. Dal vostro amichevole chirito di quartiere per oggi è tutto. Alla prossima! Matane!